Portare in Parlamento europeo una bellezza tanto importante per il nostro Paese, ma una bellezza tutta europea, significa poter collegare i territori a quella che è la più grande istituzione che noi abbiamo nel nostro continente. Lo facciamo grazie a una importante sinergia con il Comune di Todi e con ETAB e lo facciamo con una grande passione, lo facciamo perché crediamo che promuovere e valorizzare questi monumenti rendano non solo lustro ad un Paese, ad una Regione, ma permettano in una qualche maniera di conservarne le qualità e la bellezza, ma allo stesso tempo permettere ad altri Paesi di poterno soffrire. Quindi siamo ben lieti perché siamo certi che questa sia la strada giusta per collegare l'Europa ai territori. Tanto siamo qui molto contenti di essere al Parlamento europeo perché è la sede della democrazia in un momento in cui nel mondo la forma di democrazia occidentale ha un'importanza fondamentale per la pace e per lo sviluppo. L'Europa ha cambiato radicalmente il nostro modo di essere, di tutti i cittadini europei, degli italiani, degli Umbria, di Todi in particolare. In questo momento in un percorso lungo di investimenti e di crescita siamo forse nel periodo più felice. Abbiamo messo a terra tanti investimenti del PNRR, Next Generation, e siamo molto felici di adesso di poter affrontare la campagna della nuova programmazione comunitaria perché davvero abbiamo la possibilità di crescere insieme con un modello di sviluppo che è quello che noi chiediamo all'Europa e al mondo. Un modello di sviluppo giudaico-cristiano che si basa sulla democrazia, sull'amore tra i popoli e su un modo di risolvere le controversie che è un modo pacifico di contrattazione, di compromesso, alto compromesso. E non è la guerra che sembra invece tornare ad affliggere il mondo e tutto quello che ci circonda.